Io sono Marco Lioi, sono liutaio e mi occupo di tutto quello che concerne lo strumento musicale, quindi dalla progettazione, la scelta dei legni, proprio anche il taglio del legno, del tronco, fino allo strumento completo, quindi anche la verniciatura. In particolare mi sono specializzato sulla costruzione di chitarre classiche. La passione per questo mestiere nasce proprio dal mio percorso musicale. I miei genitori mi hanno fatto cominciare chitarra classica e ritmica a tre anni e mezzo. Il mio percorso scolastico non c'entra assolutamente niente con questo mestiere. Ho cominciato anche un percorso universitario a fisica, ma sapevo dentro di me che in realtà volevo fare un qualcosa di manuale, da utilizzare le mie mani e ho deciso di intraprendere un percorso di studi alla scuola di luteria di Milano. Nei miei strumenti cerco di esprimere un po' la mia esistenza, quindi tutte le mie passioni alla ricerca comunque del semplice, ma non scontato, ma ottenere comunque un prodotto di altissimo livello, sia dal punto di vista estetico, ma soprattutto timbrico, del suono, proprio dello strumento. Ecco, questi sono i miei obiettivi. Lavoro in un piccolo laboratorio a Savigliano. Sono da solo, sono un laboratore indipendente, individuale. Lavoro in un piccolo laboratorio a Savigliano.